Questa è la chiesa dove Luca Signorelli, proprio con il suo testamento del 1523, chiede di essere sepolto. È nella chiesa di San Francesco a Cortona che Luca Signorelli, come da sua volontà, fu sepolto nel sepolcro dei suoi antenati. È stata quasi, così con certezza individuata, quella che potrebbe essere la cappella della Udesi, dove secondo il testamento che abbiamo ritrovato del Signorelli, lui ha deciso di essere sepolto. A 500 anni dalla morte, Cortona celebra Luca Signorelli. Tra le iniziative nella città natale del pittore, anche la mostra documentaria La Chiesa di San Francesco da Fratelia a Luca Signorelli. Questa è la chiesa dove nel 1245 Fratelia da Cortona, uno dei primi compagni di Francesco e Ministro Generale dell'Ordine, deposita quello che è ancora oggi una delle reliquie più importanti della vera croce, che lo stesso Fratelia aveva ricevuto in dono in Oriente nell'ambasceria che lui stesso aveva effettuato per conto di Federico II. Il comune di Cortona dona quindi il terreno a Fratelia per la costruzione di questa chiesa che diventa una sorta di santuario cittadino. Nella mostra si ripercorrono le vicende relative alla sepoltura di Luca Signorelli nella chiesa di San Francesco, dal momento della morte dell'artista sino ai tentativi fatti tra fine 800 e inizio 900 per cercare la tomba dell'artista cortonese, tentativi che purtroppo non hanno avuto esito positivo. Normalmente dicono che la speranza è l'ultima a morire ma lo troverei abbastanza complesso e difficile. La mostra vuole anche valorizzare le opere che Signorelli ha realizzato per la chiesa di San Francesco. Dipinge sicuramente almeno tre tele che oggi si conservano nel Museo Diocesano di Cortona, tant'è vero che appunto questa mostra viene realizzata in collaborazione con il patrocinio della diocesi di Narezzo, Cortona e Sansepolcro, che oggi conserva queste tele che sono però in questa mostra riprodotte con una buona fedeltà anche diciamo così di stampa per permettere al visitatore di almeno ricostruire visivamente quella che originariamente era appunto la chiesa di San Francesco al tempo di Luca Signorelli.